Si rinnova l'appuntamento con Cronache e Commenti, la trasmissione che Teletruria dedica all'attività del Consiglio regionale. Come di consueto iniziamo il nostro focus con i titoli dedicati agli argomenti che approfondiremo. Multiutility, Gianni, la quotazione in borsa non dipende dalla Regione. All'oggi ERP, approvata nuova legge che determina i limiti massimi di costo degli interventi. IRPET, via libera al bilancio preventivo 2023 e pluriennale 2023-2025. Premiate in consiglio le giocatrici imbattibili dell'Arezzo Calcio Femminile. Un'opinione positiva sul fatto che più comuni si aggreghino per gestire i servizi, ma la decisione di quotazione in borsa non dipende dalla Regione. È in sintesi la posizione espressa dal Presidente della Regione Toscana, Eugenio Gianni, sul tema della multiutility nella risposta che il Governatore ha fornito in aula all'interrogazione del portavoce dell'opposizione, Marco Landi. Così Gianni, ai microfoni dei giornalisti. Il principio che si arrivi a una società che coinvolga più comuni possibili nella gestione dei servizi della Toscana per me è auspicabile, per la Giunta è auspicabile. Nel resto non possiamo rimanere colonia di altre realtà. In Emilia Romagna, a Noera, viene a formulare delle proposte di gestione dei servizi. Legittimo, ma se è toscana la società è meglio, perché poi anche gli utili che possano derivare dalle utilities di servizi pubblici, almeno li rinvestiamo sui territori. Sull'acqua, noi che siamo condizionati dal fatto che Publiacqua, ad esempio, ha il 40% di ascea e è una società che fa anche 40 milioni di utili. Il fatto che il 40% di 40 milioni significa avere sostanzialmente 17-18 milioni che vengono attraverso gli utili a essere gestiti per tappare le buche a Roma, a Scea e la società pubblica non va mica tanto bene. Quindi il fatto che si arrivi a una multi-utility toscana, come principio lo vedo bene e auspico l'associarsi dei comuni. Poi, se questa deve essere quotata in borsa o deve essere mantenuta dai comuni, insomma sarebbe troppo invadente come regione da parte mia, questi sono specifici rilievi sulla gestione, in cui è bene che i comuni abbiano la loro autonomia di indirizzo nel momento in cui realizzano una multi-utility. Abbiamo chiesto al Presidente Gianni se c'era una condivisione all'interno della Giunta su questo argomento, ma anche perché alla base di questo c'è la mancanza del piano dei rifiuti, la Tari aumenta, cittadini e imprese pagano sempre più Tari, gli impianti in Toscana non li facciamo e non li pianifichiamo, quindi esportiamo anche tantissima spazzatura al di fuori della regione e questo chiaramente ha dei costi molto alti per i cittadini. Alla base c'è questo e sulla prospettiva futura ancora una volta non c'è chiarezza da parte della Giunta. Con 34 voti a favore l'Aula di Palazzo del Pegaso ha approvato all'unanimità la modifica della legge 77 del 1998 che stabilisce i limiti massimi di costo degli interventi di edilizia residenziale pubblica. Ad illustrare l'atto è stato il Presidente della Commissione Sanità e Politiche Sociali, Enrico Sostelli. Una leggina abbastanza semplice ma importantissima, i lavori di ristrutturazione delle case popolari si stavano bloccando, anzi si sono bloccati in tante parti perché per gli ERP c'è un limite al costo che si può sostenere nelle ristrutturazioni che è stabilito da un decreto ministeriale che la Giunta regionale ogni anno riadotta. Questo limite di costo a causa dell'inflazione diventava ogni anno troppo basso e quindi faceva sì che poi non si trovavano le ditte per fare i lavori rallentando l'adeguamento di alloggi ERP e noi sappiamo quanto sia importante la ristrutturazione dell'alloggio e quindi dare una risposta ai nostri cittadini. Con questa legge diciamo che la Giunta può ovviamente rispettare i limiti nazionali che ci possono essere a partire dal decreto del 1994 ma qualora vi è un aumento dei prezzi può usare come limite massimo il prezziario regionale che dallo scorso anno vede un adeguamento dei prezzi non solo una volta all'anno ma anche all'interno dell'anno e che quindi è aggiornato su quello che è l'andamento inflattivo. Quello costituirà il limite massimo di costo che si può utilizzare e che si può sostenere per l'alloggio ERP e che dovrebbe essere assolutamente adeguato in linea con i prezzi e quindi ci permetterà di far ripartire tanti cantieri che ora sono bloccati. L'aumento del costo delle materie prime e non soltanto che è avvenuto in questi mesi è sotto gli occhi di tutti, questo immobilizzava di fatto tanti appalti pubblici anche in ambito di edilizia e residenza repubblica e quindi era giusto che la Regione, anche la Regione Toscana intervenisse cambiando le regole rigide che erano previste per legge appunto rispetto all'acquisto delle materie prime in ambito ERP e quindi abbiamo in maniera convinta votato a favore di questo adeguamento normativo che fa sì che anche la Regione Toscana si stia al passo coi tempi e si stia dentro un contesto attuale che è un contesto ahimè da questo punto di vista completamente diverso rispetto a un anno e mezzo fa. Petrucci ha poi evidenziato la situazione degli alloggi ERP in Toscana. In Toscana abbiamo poco meno di 50.000 alloggi ERP, di questi 3.000 sono vuoti perché non ci sono i soldi per metterli a norma, noi pensiamo che si possa intervenire vendendo un po' di alloggi popolari a chi già ci sta dentro, ovvero dando la possibilità di riscattarli, con quei soldi si possono mettere a norma gli oltre 3.000 alloggi di edilizia popolare pubblica che non sono sul mercato e che quindi non possono essere messe a disposizione delle migliaia di toscani e toscani che invece hanno diritto a entrare dentro quegli alloggi. 3.000 alloggi vuoti significa circa 10.000 toscani che avrebbero diritto a una casa popolare e che non la possono avere perché non ci sono i fondi a sufficienza per ristrutturare gli alloggi già presenti. Noi diciamo vendiamone a chi già ci sta dentro 1.500 e con quei 1.500 che diamo a chi già ci abita e quindi li facciamo riscattare e possiamo ristrutturare gli altri 3.000 che vanno a chi ne ha diritto. Siamo sostanzialmente favorevoli, dobbiamo anche lì comunque fare delle, eccepire alcune cose in quanto in commissione spesso abbiamo parlato delle case popolari, di come il danaro potrebbe essere riciclato vendendo determinati alloggi per poter mettere a regime altri che magari sono fermi soltanto perché devono essere rimessi in sesto. Sicuramente l'aumento, anzi la rimodulazione del prezzario è stata necessaria dal fatto che appunto il costo delle materie è aumentato enormemente, ha fatto sì che molti appalti non fossero più sostenibili ai prezzi precedenti, ma viene da considerarsi anche il combinato disposto. L'aumento dei prezzi collegato al fatto che l'edilizia popolare in tutti questi anni è stata fortemente trascurata anche dal punto di vista finanziario dalla Regione ha fatto sì che adesso ci si ritrovi a presentare una proposta di legge che cristallizza un aumento, un esborso enormemente aumentato da parte della Regione per rimettere in sesto degli appartamenti e degli immobili che lo ricordiamo come è stato denunciato anche da Sunni a CGL a gennaio sono moltissimi in pessime condizioni e soprattutto 4.000 di essi aspettano di essere riassegnati alcuni dei quali anche perché in condizioni non accettabili per poter essere dati ad altre famiglie. Non si può appellarsi adesso a un governo che è di matrice politica diversa dalla propria senza ignorare che nei decenni precedenti il Partito Democratico questa maggioranza ha potuto operare sia in Regione sia a livello parlamentare per poter rimediare a un piano case adeguato per tutte le Regioni. Quindi è assolutamente strumentale questo modo di fare. Abbiamo sicuramente votato a favore perché è l'unica soluzione in questo momento per riuscire a dare a tante famiglie bisognose degli appartamenti. Semaforo Verde dal Consiglio regionale al bilancio preventivo 2023 e pluriennale 2023-2025 dell'Istituto regionale per la programmazione economica. È stato il presidente della Commissione Affari Istituzionali Giacomo Bugliani ad illustrare all'aula le linee del bilancio di IRPET. Ancora una volta IRPET si dimostra un istituto assolutamente utile alle scelte strategiche di governo della Regione Toscana. Lo fa con un bilancio che nel 2023 risulta sostanzialmente analogo a quello del 2022 quanto alle previsioni sia sul fronte del valore della produzione sia su quello dei costi della produzione. Si registra infatti solamente un piccolo calo con riferimento alle risorse che derivano dalle attività connessi ai fondi europei e un altrettanto abbastanza ridotto calo rispetto agli introiti che vengono dagli altri soggetti pubblici poiché la Regione Toscana lascia inalterato il contributo ordinario ad IRPET che è annualmente di 2 milioni e 750 mila euro per un bilancio complessivo che supera di poco i 3 milioni di euro. Si tratta quindi ancora una volta di un istituto che dimostra di saper ben gestire le risorse che ha a disposizione e lo fa con un programma di attività che si consolida nei suoi aspetti fondamentali sia con riferimento alle attività di ricerca istituzionali sia alle attività di ricerca comuni. Con un particolare riguardo alle esigenze anche del Consiglio regionale mi piace infatti sottolineare come nel corso del 2023 verranno svolti da IRPET due studi importanti di cui uno sarà proprio quello puntualmente richiesto dal Consiglio regionale con una risoluzione votata alla fine del 2022 che è quello inerente al digital divide, al tema delle comunicazioni e delle telecomunicazioni e alla loro diffusione sul territorio regionale nonché alle scelte di allocazione delle imprese e della residenzialità da parte dei cittadini toscani. La qualità del lavoro di IRPET è indiscussa e indiscutibile proprio perché mette molti sapieri ed esperienze a disposizione della Giunta e del Consiglio regionale per cercare di venire a delle proposte di legge quindi a una qualità normativa e decisionale superiore. Ma il punto qual è? È che se andiamo a vedere quello che IRPET suggerisce attraverso i suoi documenti e le sue ricerche e quello che fa la Giunta regionale spesso anche i consiglieri della maggioranza soprattutto le cose non collimano quindi cosa succede? Che abbiamo un grande pozzo di conoscenza e delle risorse immense dal punto di vista delle indicazioni che ci possono essere date per riuscire a fare delle norme che davvero rispondono alle esigenze economiche e sociali del nostro territorio le finanziamo abbondantemente ma poi non le utilizziamo quindi il problema non è di bilancio il problema è politico perché la politica guarda ai consensi e non guarda alla qualità di ciò che deve costruire. IRPET è uno strumento fantastico poco utilizzato. Vittoria del campionato di serie C senza mai perdere una partita. L'impresa dell'Arezzo Calcio Femminile nella stagione 2021-2022 è stata premiata in Consiglio regionale con una targa assegnata per l'impegno profuso nella massima condivisione e crescita dell'intero movimento del calcio femminile italiano. Il patron delle ragazze a Maranto ricorda l'annata da record. Non esiste una matematica nel calcio come sappiamo ci sono tante tante cose che possono andare non proprio come calcolato diciamo che l'anno scorso è stata veramente una cavalcata incredibile perché l'imbattibilità e tutta una serie di risultati ci ha permesso veramente di coronare un'annata perfetta. Sì la squadra, le ragazze, le singole ma poi il gruppo ciò che viene poi dopo creato attorno allo spogliatoio. Tutto insieme ha portato questo grandissimo risultato. Oltre all'impresa sportiva c'è un messaggio che Costanza Razzolini attaccante dell'Arezzo Calcio Femminile vuole mandare. Il messaggio sicuramente per le ragazze è di seguire le proprie passioni non farsi abbattere da chi magari gli può dire che non sia lo sport giusto perché non esiste lo sport giusto se questa è la tua passione è giusto seguirla. Per i ragazzi cercare di essere un pochino magari più tolleranti verso le loro colleghe donne. Con questa premiazione vogliamo sottolineare non soltanto le cesta sportive che sono state veramente esaltanti perché una squadra che non perde mai una partita durante il campionato credo che sia veramente da Guinness deprimati. Ma queste ragazze portano un messaggio che va oltre le cesta sportive, portano un messaggio di forza delle donne, di riscatto, di determinazione, di pari opportunità e quindi questo è l'altro aspetto altrettanto importante che con questo premio noi vogliamo sottolineare. Un grazie di cuore al presidente Ceccarelli per aver voluto questo riconoscimento, per averci segnalato questa storia di successo e perché con questo messaggio davvero si trasmette a tutte le ragazze la voglia, la forza di crederci e di credere nei loro sogni perché possono essere raggiunti. Un successo personale perché sono ragazze che comunque hanno iniziato a fare calcio contro tutti e contro tutte perché erano da sole a giocare a calcio in squadre di tutti i bambini e di tutti i ragazzi e quindi la loro forza, la loro volontà di portare avanti una passione, un sogno è stata sicuramente ed è sicuramente l'esempio per tutte le bambine perché appunto non ci sono sport da uomini o da donne, lo sport è di tutti e quindi questo riconoscimento è anche per la forza di volontà che hanno avuto ad andare avanti e a credere nel proprio sogno. È tutto, questa era la nostra ultima intervista, grazie per la cortesia e attenzione, vi ricordo che Cronache e Commenti torna la prossima settimana. Grazie. 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 Grazie a tutti.